Delusi da un sistema fiscale corrotto e inefficiente, un gruppo di risparmiatori ha deciso di gestire i propri soldi in maniera autonoma. Quel gruppo è cresciuto e ti mostrerà come farlo in diretta su YouTube. Unisciti al nostro grido, i miei soldi li gestisco io. Buonasera a tutti e ben ritrovati con una nostra nuova sessione della Trading Room. Oggi, mercoledì 5 ottobre 2022, parleremo della decisione dell'OPEC di tagliare la produzione di petrolio e chi meglio lo può fare insieme a noi del nostro top trader Matteo Anelli. Ciao Matteo, benvenuto. Buonasera e ben ritrovati a tutti. Pensavamo che oltre al taglio alla produzione del petrolio ti avessero tagliato i fili del microfono. No, ho fatto solo un taglio di capelli stamattina, per il resto ho tutto. No, ogni tanto succede spostandomi da un ufficio all'altro con le cuffie, ma ci siamo, ci siamo assolutamente. Dunque, come ha annunciato Samuele, parliamo un po' dell'evento che più ha caratterizzato i mercati quest'oggi, ovvero il meeting OPEC che ha deciso di tagliare la produzione, adesso andremo più in dettaglio, l'Unione Europea e gli Stati Uniti che vogliono mettere un tetto al prezzo del petrolio russo e quindi un po' capire cosa aspettarsi da tutto questo, in particolare per quel che riguarda i prezzi del petrolio e infine capiamo come operare comunque su questi strumenti cercando delle modalità per ridurre la volatilità. Vi ricordo anche che specialmente quando parliamo di materie prime lo facciamo con una parentesi sul commodity spread che è la tecnica che utilizziamo principalmente. Per chi magari non la conoscesse ancora in dettaglio, qua in descrizione trova un link che vi rimanda al mio corso base introduttivo che quindi vi può permettere di partire dalle basi, capire meglio anche le sessioni che facciamo insieme ma soprattutto capire se può essere un'attività interessante anche per voi. Oltre a tutto questo vi ricordo anche che siamo attivi nel Trading Club con un live trading ma di questo ne parliamo tra poco. Siamo già su Alfa4Chart e in particolar modo siamo sul grafico del petrolio. Vediamo come negli ultimi giorni c'è stato sicuramente un rimbalzo dopo la caduta di circa un 20% dai massimi che aveva raggiunto a giugno. Quindi negli ultimi tre mesi c'era stato un decremento piuttosto importante dovuto principalmente alla lotta che le banche centrali ma specialmente la Fed che quindi controlla il dollaro hanno fatto all'inflazione aumentando i tassi di interesse è aumentata la forza del dollaro e di conseguenza ha messo un freno alle quotazioni del petrolio e delle principali materie prime. Non solo, probabilmente ad affossare i prezzi ci sono stati anche i timori di una possibile recessione di cui si parla sempre più spesso visto che l'economia con questo rialzo dei tassi sta soffrendo sempre di più anche a causa dell'inflazione. I mercati azionari abbiamo visto che sono già sessi molto e potremmo essere vicini ad una fase recessiva. Una fase recessiva comporta solitamente una diminuzione della domanda di beni e servizi e di conseguenza anche per il petrolio. Diciamo che probabilmente in risposta a questa azione correttiva dei prezzi l'OPEC o meglio l'OPEC Plus, l'OPEC per tutti è un cartello che raggruppa i principali produttori mondiali di petrolio ma non ci sono necessariamente tutti. Ad esempio gli Stati Uniti che sono praticamente il principale produttore mondiale non sono all'interno di questo cartello. Dall'altra parte ci sono paesi molto determinanti a livello globale per quel che riguarda la produzione e non solo come ad esempio l'Arabia Saudita ma anche la Russia. Pertanto quest'oggi nel primo pomeriggio l'OPEC ha deciso di tagliare la produzione di 2 milioni di barili al giorno e tanto per metterla diciamo in un contesto considerate che il consumo medio quotidiano nel mondo è di circa 100 milioni di barili. Diciamo che questa diminuzione non ha un effetto poi così immenso a livello globale perché comunque i produttori già stavano estrendo petrolio sotto la normale capacità produttiva. Dall'altra parte è un segnale che l'OPEC ha voluto dare nel dimostrare che è pronta ad intervenire qualora diciamo ci sono ulteriori ribassi nel prezzo del petrolio e probabilmente potrebbe essere vista anche come una conseguenza relativa un po' ai malumori che sono nati soprattutto tra i paesi dell'OPEC per quel che riguarda la notizia di mettere un tetto ai prezzi del petrolio russo perché chiaramente è un po' come se si creasse un precedente. Se allora c'è qualcuno che si pone sopra tutti gli altri e può mettere un tetto ai prezzi chiaramente questo può diventare molto pericoloso per i produttori stessi. Inoltre vi ricordo che da dicembre entrerà progressivamente in vigore l'embargo europeo sul petrolio russo che era già stato bloccato da Stati Uniti e Regno Unito anche se la loro quantità era davvero molto molto esigua. Quindi abbiamo visto un segnale piuttosto forte da parte dell'OPEC che è stato diciamo ulteriormente accelerato da quello che ci sta facendo vedere Samuele ovvero da una riduzione diciamo delle scorte. Infatti il dato di oggi è stato un dato diciamo negativo quindi una diminuzione di fatto dell'offerta globale e quindi è un qualcosa che produce un effetto rialzista nei prezzi del petrolio che in effetti alle quattro e mezza hanno avuto un ulteriore slancio anche perché quello che vi ho annunciato prima del taglio di due milioni di barili da parte dell'OPEC era qualcosa già come dire annunciato già riconosciuto. Questo ha secondo me anche un po' penalizzato l'azionario. Possiamo vedere un attimo il Nasdaq che è un po' nel tentativo di un rimbalzo molto molto tenue perché chiaramente è un po' un rilancio dell'inflazione quello che è avvenuto oggi. Se da un lato le banche centrali cercano di calmarlo diciamo che l'OPEC con questa mossa va a rilanciare di fatto l'inflazione e l'aumento dei prezzi anche perché aumenta il petrolio di fatto aumenta tutto il resto. Basta che una merce deve essere trasportata da A a B se il prezzo della benzina, dei carburanti aumenta chiaramente costa di più quella merce e di conseguenza tutto il resto. Quindi il petrolio ricordiamoci che non solo fa parte di tanti sistemi produttivi ma è anche la materia prima legata diciamo al trasporto mondiale. Fatta tutta questa doverosa premessa attenzione che questo rimbalzo sull'azionario e anche sull'euro dollaro potrebbe essere un rimbalzo di breve termine e una nuova accelerazione ribassista un po' come la vediamo nel dollaro oggi che ha ripreso forza nei confronti dell'euro potrebbe anche avvenire sul Nasdaq e di conseguenza anche sugli altri indici della borsa. Quindi attenzione che non necessariamente il mercato ha cambiato pelle proprio oggi ma probabilmente ci vorrà ancora ancora diverso tempo. Tornando solo un attimo diciamo al petrolio visto come singola materia prima prima di passare allo spread già nei mesi scorsi io vi parlavo di una azione possibile di questo tipo. Diciamo che la mia valutazione si è rivelata sbagliata perché nei mesi di luglio agosto mi aspettavo poi una non una una discesa sotto diciamo a un po' la soglia degli 80 85 ma pensavo un nuovo attacco ai 100 proprio dovuto a questo taglio della produzione un po' queste azioni che sono avvenute oggi. In realtà sono avvenute in ritardo rispetto a quanto io mi aspettassi. Nel frattempo la Fed ha avuto un po' il terreno fertile per le sue politiche e il petrolio è sceso. Ora un ritorno un po' in quella fascia 90 100 la trovo sicuramente possibile. Uno slancio ulteriore sopra i 100 dollari al barile è anche questo possibile ma secondo me potrebbe essere un'azione un po' più di breve termine su qualche notizia, su qualche news magari un po' shock, un po' disattesa piuttosto che complicazioni legate alla guerra e via dicendo. Però attenzione che questa è un'azione importante da parte dell'OPEC che di fatto dice più di tanto noi il prezzo del petrolio non lo facciamo scendere. Chiaramente questo aiuta in parte in parte la Russia ad avere un prezzo più alto ma anche i vari paesi produttori sicuramente penalizza gli Stati Uniti e sicuramente l'amministrazione Biden non sarà contenta anche perché aveva fatto visita all'Arabia Saudita poco tempo fa proprio per cercare di ottenere l'azione contraria ovvero un aumento magari della produzione o comunque non un taglio per abbassare ancora di più i prezzi del i prezzi del petrolio. Anche perché l'inflazione si fa sentire in Italia si fa sentire in Europa ma anche negli Stati Uniti e sicuramente chi dovrà andare a votare tra poco per la nuova presidenza non è molto contento di quello che ha fatto Biden e compagni lasciando magari stare che può anche non essere attribuita ad un presidente la colpa del rialzo dell'inflazione ma magari di più a un banchiere centrale ma questo è tutto un altro discorso. Poi è chiaro che i malumori elettorali sono anche diversi ecco da diciamo che è il vero colpevole a volte di una certa situazione e quindi tutto questo per dire che l'avrà veramente difficile ecco una nuova rilezione soprattutto con un'inflazione così alta e con un probabile mancato miglioramento nei prezzi dell'energia e di altri beni negli Stati Uniti. Staremo a vedere quello che succederà però sicuramente nell'orizzonte ecco è quello che un po' si vede. Visto che continuiamo in un clima di volatilità in un clima di alta incertezza perché comunque l'inflazione è un problema che non si è ancora risolto. La recessione è un problema che si potrebbe materializzare ma non si sa ancora come quando e che entità. Oltre a questa cosa abbiamo anche una guerra che è ancora in atto che sta anche sfociando verso situazioni che possono diventare anche più pericolose. Si parla sempre più di nucleare eccetera eccetera. Il covid forse ce lo siamo levato di torno ma non è certa neanche questa cosa e quindi sicuramente l'incertezza globale permane. Proprio per continuare a poter portare a casa la nostra pagnotta delle rese, dei rendimenti e dei veri stipendi c'è la possibilità di intervenire su degli strumenti che appunto vanno a ridurre di fatto la volatilità, a lavorare un po' più su un discorso statistico e quindi ad essere diciamo trattati con a mio avviso maggiore facilità anche per chi magari non può avere una costante e continua attenzione sul mercato come magari può farlo un professionista, uno che fa questo di mestiere. Quello che ci sta facendo vedere ora Samuele è uno spread ma in particolare è una butterfly spread che non va confuso con le opzioni, anche lì si fanno i butterfly ma è una cosa diciamo leggermente diversa. Qui abbiamo messo in gioco di fatto tre scadenze, quella di giugno, quella di luglio e quella di agosto dell'anno prossimo. Per avere un bilanciamento tra future comprati e future venduti di fatto in questo caso andremo a vendere il primo future, quello di giugno, andremo poi a ricomprare i due centrali, quelli di luglio e a vendere nuovamente quello di agosto. Questo perché vogliamo fare un'azione short, un'azione ribassista. In questo modo abbiamo visto come questo spread si sia allontanato un po' dal suo percorso medio, linea a 5 anni gialla e a 15 anni rossa. Quello che noi puntiamo è un po' di riallineamento di questi prezzi e come possiamo vedere anche in tutta la vita di questo spread non è che ci sono stati grossi sbalzi nonostante il più 20, meno 20 del petrolio che abbiamo appunto visto. È ovvio che con un'azione fortemente realzista questo spread potrebbe tendere un po' al rialzo, questo è vero. Dall'altra parte penso e pensiamo che possa comunque rimanere contenuto anche perché come avete capito è uno spread, quindi due li compriamo e due li vendiamo. Quindi è una posizione assolutamente bilanciata. Se cortesemente proviamo a usare il profit e il loss, esatto me lo fai un po' da massimo a minimo tanto per avere un'indicazione, perfetto. Tutto questo è un movimento di soli 100 dollari, quindi sì può essere magari tanto o poco per alcuni ma comunque ecco è un movimento molto molto contenuto rispetto a quello che potremmo vedere sul singolo future del petrolio, il movimento dell'ultimo mese adesso non ve lo so dire così facilmente ma possiamo pensare anche ad un movimento di 10-20 mila dollari, quindi parliamo di qualcosa di completamente diverso. In più il petrolio come abbiamo visto potrebbe essere rilanciato da nuovi tagli dell'OPEC, potrebbe essere ribassato da nuove azioni da parte della Fed. In questo caso invece noi puntiamo ad un riallineamento statistico, i vari spread, la struttura si è diciamo un po' sbilanciata e quindi puntiamo un po' a un rientro nel canale. Chiaramente non siamo costretti a fare questa operazione con un singolo contratto per puntare a soli 100 dollari ma nulla ci vieta di farlo con 2, 3, 4, 5 anche perché il margine di questa operazione, adesso lo vediamo, se non ricordo male intorno ai 300-350 dollari, ci guardiamo subito a Matteo, con un contratto di 343 euro. Perfetto che poi si abbassa anche a 2, 55 come margine di mantenimento, quindi con un obiettivo di profitto di circa 100 dollari ma è l'obiettivo primario, poi ce ne possono essere anche qualcuno più generoso, chiaramente può essere un ritorno sul margine impiegato piuttosto importante. Poi come dicevo poco fa, se farlo con 1, 2, 10, 50 contratti poi quello chiaramente sta nella logica di ciascuno di noi in base al capitale, al rischio che vogliamo sostenere. Visto la dimensione diciamo piuttosto ridotta della posizione, se vuoi possiamo anche procedere a entrare a mercato. Ecco qua. Di solito sempre meglio un ingresso limite ma qua anche per ragioni di diretta facciamo pure a mercato e non è un problema. Perfetto. Perfetto, poi ecco l'operazione è stata eseguita e poi la controlleremo nei prossimi giorni. Cosa che facciamo con costanza all'interno del nostro Trading Club che è una sessione diciamo privata in cui io mostro il mio portafoglio reale, le varie posizioni che abbiamo mercato, come decidiamo di gestirle e la cosa molto bella è che si lavora un po' in squadra perché voi potete proporre le vostre idee anche per avere una conferma su quanto avete studiato, su quanto avete imparato e si fa davvero squadra cercando le migliori posizioni insieme, scartandole quelle più brutte. Quindi si parte chiaramente con una conoscenza teorica che parte dall'ABC oltre al mio corso introduttivo che è il Trading Club Lite che abbiamo visto prima, qua chiaramente potete conoscere molti più dettagli, la parte più completa e più avanzata che prevede un po' questa tecnica e questo metodo. Successivamente non sarete da soli diciamo settimana dopo settimana perché con il live trading, con le sessioni che vi ho appena descritto sarà un po' come avere qualcuno che vi prende per mano soprattutto agli inizi quando si fa una nuova attività. Inoltre lo usiamo sempre in queste dirette. Alpha for Chart può essere un compagno di avventura molto interessante perché vi permette di trovare le migliori stagionalità non solo con delle ricerche individuali a mano ma ogni mese è proprio il software che attraverso un algoritmo va a trovare le migliori proposte statistiche basate sulla stagionalità ma non solo. Infatti la maggior parte degli applicativi in commercio simile a questo si basano solo sulle statistiche stagionali, cosa che non è sbagliata ma molto incompleta perché in un periodo come questo, in un anno come c'è il covid o c'è una guerra o un'altra cosa è ovvio che tante stagionalità funzionano meno, vengono sbandate e quindi mettere in campo altri elementi, altre caratteristiche che vanno anche a togliere un po' la distorsione statistica che ci può essere con qualcosa di passato raccontano sicuramente una storia più attuale e quindi aumentano le possibili probabilità di successo delle varie strategie. Lo potete provare per 14 giorni, in ogni caso come sempre per maggiori informazioni siamo a disposizione così da capire esattamente le vostre esigenze e i vostri interessi. Ripasso a te la parola Samu. Grazie mille Matteo sia per il tuo intervento che per lo spunto operativo che ci hai dato quest'oggi, io concludo con quelli che sono i prossimi appuntamenti settimanali ricordando che l'Investors Club e il tuo laboratorio del Trading Club Pro Spread sono già stati caricati all'interno dell'Academy e sono già a vostra disposizione. Ci sentiremo domani con il Trading Club Pro Azioni per tutti gli abbonati e venerdì con un altro episodio della Trading Room Free che verrà pre-registrato e caricato verso sera all'interno della vostra Trading Academy. Ricordo inoltre a tutti gli amici di YouTube di iscrivervi alla nostra Academy, è gratis e potrete partecipare alle sessioni in diretta come questa e vedere anche gli episodi registrati del venerdì. Grazie ancora Matteo, grazie ancora a tutti per essere stati con noi questa sera, vi auguro un buon proseguimento di serata.